Aspettate raga, c'ho un problema Quando faccio la zona di Sumeru Devo avere con lei, con me Non vedo l'ora di giocarmela tutta in italiano In teoria poi questo ragazzi ci dovrebbe portare a una quest principale Ok A riunione praticamente Esatto Ve l'avevo detto raga Per me ci ricollega al festival della quest principale Grazie Ok Grazie 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 Ah. 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 Ok, va bene. Ah, ragazzi, ogni attività mi dà delle primogenze, ben venga. Cavolo. Allora, ritorniamo indietro. Uno eccolo, uno là. E come colloquio abbiamo assistito con i miei, ragazzi, più o meno. Allora, ritorniamo indietro. Mi hanno dato un fiore. Ok. Non sto capendo, ragazzi, però va bene. E... Eh, troppo forte, ragazzi. Vai. Eh, vedete? Quando facciamo dei piccoli giochi... Eccolo uno. Me ne manca uno. Eh... Eh... ... Uh... ... Dov'è l'ultimo? Maccia la miseria Guarda dov'è Grazie Ci ho fatta raga Da fare avanti e dietro Per false emissioni Ah Non mi dire che non ce l'ho Ma devo fare Aspettate Guarda Eccola Ok Ok Dovrebbe essere rimasta solamente quella del Del festival Perfetto Dov'è Aragavi? Qua Se non completavo le emissioni Ragazzi questa non me la dava Oh Ok. No, l'abbè. No, l'abbè. No, che carino. No, vabbè. No, l'abbè. Speriamo. No, l'abbè. No, l'abbè. No, l'abbè. No, l'abbè. No, l'abbè. No, l'abbè. Ma sì, dai. Tutto sommato non ci lamentiamo. Parte questo tempo che comincia a fare un freddo cane. Però, vabbè. È pure periodo, insomma. Era pure ora che cominciava a fare un freddo, regà. Se potrebbe sempre. Eh, ho un po' di problemi per quanto riguarda purtroppo i mezzi pubblici, regà. perché diciamo che la nostra metropolitana non è molto famosa per essere efficace, anzi efficiente. Quindi diciamo che questa cosa mi sta creando un po' di problemi. Però, tutto sommato, si fa quel che si può. Ok, questa dovrebbe essere la conclusione perché dovremmo dare i fiori che ci hanno dato l'oro per concludere l'evento, credo. Ripeto, ragazzi, io aspetto con ansia il 7 dicembre per vedere finalmente tutto il gioco in italiano. E molto probabilmente farò in separata sede perché non mi metto a ricominciarlo in live, perché altrimenti potrebbe essere un problema. Vorrei ricominciarlo interamente in italiano. No, no, no. Live di Fortnite da PC, no. Anche se comunque dovrei aprire sicuramente Salva il Mondo, perché so che comunque dà parecchie esperienze. Dove devo andare? Alla ragia. Sono un po' indietro con i livelli questa season, eh. Però... Uh, ciao. Allora, io credo che da qui dovremmo essere in grado poi di svegliare rana. Credo. Si è impallato da solo, eh? Ok. Adesso si è ripreso. Ciao. 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 Grazie a tutti